di una morte annunciata dell'associazione sportiva Roma che è defunta credo definitivamente a Firenze dal punto di vista sportivo per la stagione 2024-2025. È stata una partita vergognosa vergognosa nell'atteggiamento in campo, vergognosa nel modo di prepararla, vergognosa dal punto di vista proprio della disattenzione generale. Si arrivava da una sconfitta quella con l'Inter da un 1-0 farraginosissimo con la Dinamo Kiev. Aveva la Fiorentina sui reali dell'entusiasmo e è andata in campo veramente come la corazzata Potionkin. Una cosa brutta, una chiara distanza tra i giocatori e l'allenatore, una cosa che è abbastanza visibile da qualche giorno, da più di qualche giorno ed è una cosa inevitabile perché alla Roma ci sono dei presidenti che stanno negli Stati Uniti. Un direttore sportivo che parla francese, che sta a Trigoria praticamente isolato, non c'è più un CEO che dopo aver fatto dei danni inenarrabili adesso non c'è e non è stata ancora sostituita nonostante i rumors che ci sono anche su questo. Manca gente di calcio, manca competenza, manca l'idea di aver capito quello che sta succedendo ed è una cosa inevitabile perché se il manico e la testa sono vuoti tutto il resto non può andare bene. La Roma è in una situazione grottesca sotto tutti i punti di vista che è stata certificata da quel famoso comunicato del martedì dopo Roma Odinese in cui i Fridkin si sono suicidati anche sulla vicenda dei Rossi definitivamente, vicenda della quale sono corresponsabili ma è una cosa fatta e finita dall'ex CEO e la Roma si ritrova oggi senza niente perché il terzo allenatore in nove mesi è già praticamente saltato. Se non salta domani resta fino al Torino e poi è pending dai risultati senza nessun controllo sulla squadra che non ha nessuna fiducia in lui e io non voglio dire che Iuric sia l'unico responsabile assolutamente, anzi secondo me è più vittima di questa situazione di quanto sia colpevole ma è il contorno che lo rende poi anche colpevole perché si rende conto che quando i Fridkin dicono abbiamo preso Iuric per vincere i trofei e non ha mai vinto un trofeo non è una cosa che ha un senso logico, gli mette ulteriore pressione ed è inutile per lui come è inutile per loro che poi giustificando nel comunicato l'allontanamento di De Rossi che rimane una scelta folle e inaccettabile, ti ritrovi in questa situazione di nulla perché non puoi tornare indietro, perché non sai che fare, perché staresti prendendo, se mandi via Iuric e non riprendi De Rossi, che in questo momento è l'unica soluzione, un palliativo ma è comunque una soluzione, prendi il quarto allenatore in nove mesi, quindi Mourinho 20 gennaio, De Rossi 15 settembre, Iuric lo mandi via stasettimana e prendi il quarto allenatore in nove mesi, ma voi parlate di Cina Panettone prima su Inter Juve, questo è peggio, questa è una barzelletta, tutto questo oggi per dire che se io fossi De Rossi non tornerei mai in questo sfacelo nel caso in cui avessero l'umiltà e l'intelligenza di dire scusa, abbiamo fatto un errore madornale, ci ne rendiamo conto? Puoi tornare a riprendere questa baracca? Io non tornerei se non con un uomo vicino forte. Fabio Ranieri? No, non mi risulta che abbiano chiamato Nero Ranieri né De Rossi attualmente, a me quindi non è che so la verità e la vita, però non mi risulta Nico Burdis o comunque una figura di cui De Rossi si fida e che sappia fare calcio.